1986-2016. Rock Tag d'Italia da 30 anni è sulle strade della musica. Io sono Fausto Pirito e sono giornalista e insieme con Stefano Lonzani per tanto tempo ho fatto il direttore artistico di questa manifestazione, insieme anche a Gianni Maroccolo che ai tempi faceva il produttore di tutto il contest. Con Francesco Caprini e Franco Sanini abbiamo lanciato tanti tanti personaggi sulla scena del rock italiano e quindi Rock Tag d'Italia ve lo consiglio come manifestazione a cui partecipare perché Rock Tag d'Italia porta fortuna. Quindi iscrivetevi all'edizione del 2016. Ciao a tutti e buona musica!